Sì, molto rapidamente. Come tutti voi sapete, quest'anno la legge di stabilità inizia dal Senato e quindi è ancora più sconcertante il fatto che oggi noi non riusciamo neanche a avere i tempi perché non c'è nulla. Nel senso che stiamo discutendo con un dibattito su cui dirò anche alcune cose di quella che dovrebbero essere le proposte contenute nella legge di stabilità ma di fatto avranno come al solito approvato la camicia come si dice in gergo nel Consiglio dei Ministri. La camicia sarebbe solo la copertina del provvedimento. Ovviamente i numeri e non solo le proposte sono un elemento che è fondamentale per comprendere qual è il tipo di manovra che è stata varata. Noi, come già ha detto Arturo, articoleremo delle nostre proposte molto precise, anche proprio di spostamento, di risorse. Una cosa ci sentiamo di dire, però, dalle slide che sono state presentate, che certo tutto si può dire di questa manovra, meno che sia una manovra espansiva perché è proprio sul lato che noi riteniamo fondamentale per la ripresa economica del Paese, che è quello degli investimenti, è proprio lì che invece non troviamo assolutamente risposte. Soprattutto su alcune questioni fondamentali del Paese, adesso ne citava una per la drammaticità di quello che sta accadendo, scotto su cui siamo già intervenuti la scorsa settimana con la conferenza stampa sul dissesto idrogeologico, ma in generale su tutto il mezzogiorno, cioè abbiamo dalle slide, insomma non compare assolutamente nulla. Invece sì, tutto è concentrato perché il tipo di comunicazione è stata tutta concentrata su due questioni che sono esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere una manovra all'altezza di quello che serve al Paese.